Inizialmente buongiorno, benvenuti alla seconda parte della seconda lezione e ovviamente buon anno dato che ormai siamo nel 2014, ma continuiamo dove eravamo rimasti, eravamo rimasti sulla convoluzione, ricordate, di due funzioni, in particolare la convoluzione fra la funzione di ingresso di un sistema lineare e permanente e la risposta al segnale impulsivo che ci dava l'uscita, se vi ricordate eravamo rimasti a questo punto, c'è la Y di T che era l'uscita di un sistema lineare permanente e che era uguale alla convoluzione dell'entrata con la risposta al segnale a impulso, c'è la delta di Dirac e questo avevamo detto che era il problema analitico, scritto così, problema analitico, nel senso che si risolve per Y, però che nascondeva in realtà nella pratica il problema di sintesi, c'è la sintesi di voler caratterizzare un certo sistema che noi stiamo progettando o costruendo, che abbia una speciale risposta H, vedete quest'H di T-Modau, che abbia quest'H di T-Modau come la volete voi, quindi progettabile per ottenere un certo tipo di Y da un certo tipo di X, questo è il lavoro sostanzialmente che fa un ingegnere che sta progettando dei filtri o comunque dei blocchi logici all'interno di un circuito più ampio e quindi sostanzialmente quello che andremo a fare, tra l'altro molto facilmente in questa piccola lezione, è indagare un po' più a fondo le proprietà magari di questo particolare operatore, che è un operatore di convoluzione e che in realtà, da dirla tutta, soddisfa praticamente le stesse proprietà della moltiplicazione usuale cui voi siete abituati, quindi nessuno spavento, andiamo solo a vedere proprio un minimo, senza voler entrare nel dettaglio, cosa che non ci compete, ma andiamo a vedere un minimo le proprietà della convoluzione, così voi siete più tranquilli nell'usare questi operatori senza poi aver paura di gestirli dal punto di vista algebrico, ovviamente abbiamo visto che questo è sempre un integrale, pur sempre un integrale fra meno infinito e infinito e per esistere deve convergere, per convergere è naturale che su F e su G ci siano delle richieste ovviamente, adesso riducendo all'osso, all'omicino le richieste su F e su G, basta che una delle due diciamo sia a supporto compatto, basta che l'altra sia localmente integrabile, integrabile secondo le bag, insomma, il succo di queste cose, anche se non volete poi andarvi a rivedere da analisi 1 che cosa vogliono dire queste definizioni, io qui non le dico per motivi di tempo perché sarebbe troppo lungo, ma il succo della storia è che l'integranda deve convergere ovviamente, sennò non c'è l'integrale di convoluzione e quindi tutto questo discorso andrebbe a finire, diciamo, nella più totale inutilità. Quindi abbiamo definito con questo simbolo F star G di T, che è una funzione che dipende da T, quest'integrale F di tau per G di T meno tau in the tau, e abbiamo visto che semplicemente cambiando variabile, ovviamente scrivendo per esempio T meno tau teta per dirne una, questo diventerebbe G di teta e questo diventerebbe F di T meno teta e questo diventerebbe sempre meno teta ma col meno del cambio qua degli apici si ribalta l'integrale, quindi tornerebbe questa scrittura qui, dove al posto di teta ovviamente teta è l'indice mutuo, io posso mettere quello che voglio e allora per stile si riscrive un'altra volta tau, ma è ovvio che qui c'è stato un cambio di variabili, quindi vedete che con un semplicissimo cambio di variabili si può riottenere F di T meno tau per G di tau in the tau e quindi sostanzialmente G asterisco F di T, quindi abbiamo detto anche l'altra lezione che F per G è uguale a G per F nel senso della convoluzione, questa proprietà vi ricordo è nient'altro che la proprietà comulativa tra F e G, la comulazione tra F e G sotto l'operazione di convoluzione, ovviamente questa è la proprietà più importante, la proprietà che si usa più spesso per fare i calcoli, ma ce ne sono altre, c'è per esempio la proprietà di distributività, cioè la convoluzione distributiva, la distributività è presto dimostrata, facciamo conto che la funzione G invece di essere una funzione sia una combinazione lineare qualunque, prendiamo la più semplice, la somma a coefficienti unitari di due funzioni G1 e G2, avremmo che la convoluzione si scrive come integrale tra meno infinito e infinito di F di tau, aperta parentesi G1, qui ci potrebbe essere una coefficiente ma non cambia, di T meno tau più G2 di T meno tau, chiusa quadra in D tau, naturalmente qui si seguono le normali proprietà del prodotto ordinario, prodotto tra funzioni, quindi si distribuisce la F lungo questa parentesi e poi si divide l'integrale, si può dividere la somma di due integrali, sempre per la linearità dell'operatore integrale e quindi si può scrivere l'integrale tra meno infinito e infinito di F di tau G1 di T meno tau in D tau più lo stesso integrale tra meno infinito e infinito di F di tau G2 T meno tau in D tau, quindi abbiamo distribuito se volete l'operatore, se la vedete dal punto di vista dell'operatore di convoluzione, abbiamo distribuito rispetto a una somma, una combinazione lineare qualunque perché davanti a G1 e a G2 potrebbero esserci qualsiasi coefficiente, anche complesso volendo, abbiamo distribuito il prodotto di convoluzione, prodotto di convoluzione che tra l'altro risulta essere bilineare, cioè funziona in entrambi i versi e naturalmente possiede se vogliamo andarci a cercare anche un elemento unitario, su questo non voglio entrare nei dettagli perché non è proprio esattamente così facile come sembra, però diciamo così, prendiamo per buono che la delta di Dirac funga da operatore unitario rispetto a questa operazione di convoluzione. In effetti se io voglio ottenere una certa F di T, basta che faccio la convoluzione tra meno infinito e infinito di F di tau per la delta di T meno tau in D tau e questo è di nuovo a F di T, quindi in qualche modo la F di T applicata a questa convoluzione con l'operatore delta, se volete è un'identità in qualche modo, ripeto non è esattamente così, non voglio entrare nei dettagli, ma sappiate che non è elegante dal punto di vista matematico dirla così facile, ma noi la diciamo sicuramente facile dato che non siamo matematici e quindi riassumiamo le proprietà che abbiamo visto in questa tabella e che quindi ricordano a tutti noi e anche a me che il prodotto di convoluzione è commutativo, è associativo, vedete con la terza funzione H si può associare F per la convoluzione GH oppure F convoluto con G convoluto con H, si può facilmente dimostrare se volete fatelo per esercizio, e poi c'è distributivo, cioè si distribuisce rispetto alla somma, è associativo rispetto a una moltiplicazione per uno scalare, questo non vi crea alcun problema perché vi ho detto già che, anzi addirittura questo A potrebbe essere definito nei complessi, e poi esiste questo elemento neutro, abbiamo detto con le dovute riserve mentali, sappiate che se lo dite a un matematico magari storce il naso, detta così, però ha anche lui i suoi buoni motivi, fidatevi, ma per noi questa delta possiamo dire che funge da elemento neutro, cioè funge da elemento tale per cui l'operatore applicato adesso di una certa funzione dà la funzione stessa e quindi conseguentemente esiste una F alla meno uno, un inverso se volete, tale che F per F alla meno uno dia la delta, diciamo che con queste proprietà abbiamo in qualche modo chiuso il cerchio e diciamo con l'insieme di queste distribuzioni invertibili ovviamente deve esistere la F di meno uno deve esistere, ma con l'insieme, insomma prendendo delle funzioni che hanno le invertibili si definisce così un gruppo abeliano nel senso più classico del termine e quindi sostanzialmente potete benissimo pensare così in prima approssimazione che la convoluzione sia quasi come l'operazione di prodotto usuale e quindi non sbagliarvi sostanzialmente. Cosa fa questa convoluzione? abbiamo detto trova l'area dell'istante per istante della convoluzione di due funzioni quindi c'è due piccole animazioni che stanno su Wikipedia e che sono accessibili a tutti voi e sono molto carine, io le prendo in prestito citando la fonte e vediamo che cosa succede qual è la convoluzione senza calcolarla ma visualmente di due segnali rettangolari ovviamente il blu è F di tau, infatti vedete che sta fermo, centrato in zero il rosso è G di T meno tau, quindi è quello traslato che viene traslato nel tempo il nero che vedrete disegnarsi tra poco è la convoluzione, cioè non è la convoluzione è l'argomento di convoluzione, cioè sostanzialmente è la funzione di convoluzione che ne esce fuori e il giallo è l'area, cioè è l'area descritta da questa funzione che ne viene fuori vediamo cosa succede, vedete 0 fino a che si toccano, poi l'area comincia a aumentare arriva al massimo quando sono tutte e due sovrapposti, scende a zero quando escono uno dall'altro quindi la convoluzione in questo caso è semplicemente, vedete la funzione di convoluzione è questo rettangolo e l'area descritta sotto il rettangolo è il prodotto di convoluzione quindi è molto intuitivo quello che stiamo facendo, possiamo farlo con forme più difficili se volete dal punto di vista analitico ma stiamo sempre nel dominio delle cose facili e questa volta facciamo una convoluzione fra un segnale diciamo esponenziale, decrescente, semplice un e alla meno t su tau se volete e poi un segnale rettangolare che fa il giochetto di prima e vediamo che l'area da qua aumenta, 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 a un certo punto arriva al massimo e decresce come l'esponenziale che ovviamente domina la dinamica dato che stiamo facendo comunque il prodotto tra due funzioni di cui una è una costante, un rettangolo e l'altra è un esponenziale negativo è ovvio che arrivati, se volete lo rivediamo, arrivati, ecco, cresce, cresce, cresce a questo massimo domina l'esponenziale quindi c'era poco se volete da inventarci anche analiticamente poi lo vedremo in un esercizio c'è questo, per esempio, seguire questo esponenziale dopo il massimo della convoluzione dell'area della convoluzione quindi questa cosa spero sia servita a darvi un'idea visuale di che cosa si fa quando si calcola la convoluzione ovviamente bisogna imparare però a calcolarcela insomma, analiticamente stiamo qui per questo, quindi faremo degli esercizi opportuni sopra e magari vedremo adesso anche un esempio così per renderci le idee un po' più chiare però prima di passare subito all'esempio che sennò vi risulterebbe strano perché finora abbiamo parlato di questa equazione da usare cioè del fatto che l'uscita è la convoluzione dell'entrata con la risposta impulsiva del sistema allora adesso vedrete che noi faremo i conti su un CR, su un circuito CR non più con la risposta impulsiva ma con la risposta a gradino col gradino, diciamo e quindi voi direte, ma perché facciamo questo? e beh, perché noi abbiamo detto che insomma, una delle cose pratiche più ricorrenti in laboratorio è cercare di conoscere la risposta impulsiva di un sistema, no? però che succede? che per conoscere la risposta impulsiva c'è poco da fare bisogna mandare un impulso di Dirac al sistema e vedere che cosa ne esce fuori adesso, dirlo così è facile farlo non è facile poi tanto perché è evidente questi sono discorsi, ripeto cioè, si fa così durante l'insegnamento si procede dal caso teorico e poi però ci sbatte la faccia diciamo, nel caso pratico il caso pratico è che vedrete impossibile in laboratorio neanche avvicinarsi all'impulso di Dirac perché l'impulso di Dirac è un impulso di ampiezza nulla di durata, scusate, durata nulla e ampiezza infinita si possono oggigiorno usando i laser usando particolari tecnologie super elevate arrivare al picosecondo di durata ma certamente non si può arrivare neanche da lontano vicino all'infinito all'ampiezza infinita per quanto si possa fare energetico voi capite che a un certo punto più di tanta energia nel singolo impulso non si può dare quindi che cosa succede? succede che qualsiasi approssimazione della delta di Dirac sarebbe veramente un'approssimazione povera per rimediare a ciò per rimediare a questa impossibilità nostra tecnica di creare un impulso di Dirac in laboratorio dobbiamo prendere dobbiamo usare un po' di furbizia usare un po' di furbizia perché abbiamo visto nelle lezioni precedenti una cosa che se la fossimo segnata ambientalmente ci tornerebbe utile adesso cioè abbiamo visto che il gradino unitario è legato con la delta di Dirac in qualche modo adesso vedremo in che modo il gradino unitario è un segnale che è 0 fino all'origine dei tempi cioè quando noi decidiamo di accendere l'interruttore poi quando accendiamo l'interruttore diventa immediatamente 1 quindi il voltaggio è 0 fino a T uguale a 0 poi da T uguale a 0 in poi diventa 1 questo è un segnale anche se anch'esso impossibile da replicare così com'è in laboratorio perché ci sarà sempre un tempo di salita fra 0 e 1 non sarà mai una discontinuità vera e propria però è un pulso molto più facile da generare nel nostro laboratorio e quindi che succede? quindi succede che possiamo sfruttare questo fatto che noi il gradino lo possiamo fare tranquillamente in laboratorio e sfruttiamo anche il fatto che sappiamo che c'è un legame fra il gradino unitario e la delta di Dirac e sta appunto questo legame si trova se volete nell'operatore differenziale e possiamo quindi definire se volete una convoluzione tra H cioè la risposta all'impulso di Dirac del sistema che noi vogliamo sapere senza purtroppo possedere un impulso di Dirac e questo segnale a gradino cioè facciamo la convoluzione fra H di Tau e questo segnale a gradino U di T meno Tau in D Tau e questa cosa qualsiasi cosa essa sia la chiamiamo non lo so YK di T cioè la chiamiamo risposta indiciale come si dice risposta indiciale del sistema la risposta indiciale del sistema se vi viene chiesto è la convoluzione tra la risposta impulsiva e il gradino unitario e poi si fa la derivata perché ci ricordiamo dalle lezioni scorse che la derivata vedete la derivata di questa risposta indiciale si basa sul fatto che la derivata del gradino unitario è la delta di Dirac se vi ricordate dall'altra lezione e quindi sostanzialmente la derivata della risposta indiciale risulta essere proprio quello che noi cerchiamo cioè la risposta impulsiva che vogliamo poi mettere e schiaffare dentro l'integrale e fare la convoluzione con l'entrata e ottenere l'uscita e quindi vediamo come si fa la definizione quindi dobbiamo fare la derivata della risposta indiciale rispetto al tempo quindi facciamo t in dt della convoluzione l'integrale tra meno infinito e infinito di h di tau per u di t meno tau in d tau adesso noi stiamo derivando rispetto al tempo un operatore di integrazione c'è la linearità fra la derivata e l'integrale sapete che c'è la linearità si possono scambiare questi simboli scambiando questi simboli ci troviamo ad operare una derivazione su un prodotto di due oggetti di cui uno è parametrico dipende da tau e l'altro dipende da t meno tau quindi l'unica dipendenza da t se volete è nel segnale a gradino quindi non ci resta fare altro che portare questa derivata da solo sul sul segnale a gradino quindi riscrivere l'integrale tra meno infinito e infinito di h di tau della derivata del gradino che dipende da t meno tau in d t in d tau e questa qui abbiamo visto per le proprietà delle funzioni abbiamo visto che la derivata del gradino è proprio la delta dello stesso argomento quindi di t meno tau e quindi abbiamo chi abbiamo? abbiamo la convoluzione cioè l'integrale tra meno infinito e infinito di h di tau in d t meno tau in d tau ma questo abbiamo detto per l'operatore convoluzione sarebbe diciamo l'unità l'elemento neutro l'elemento unitario del prodotto di convoluzione quindi questo ricaccia fuori solo l'h di t cioè non nullo solo quando h che dipende dal parametro tau c'è tau uguale a t e quindi istante per istante ricalca la delta di dirac la risposta del sistema alla delta di dirac e quindi questo è quello esattamente quello che noi volevamo trovare cioè abbiamo sostanzialmente trovato la risposta del sistema la risposta del sistema al segnale impulsivo senza possedere un segnale impulsivo ma anzi possedendo un semplice banale impulso a gradino unitario un segnale a gradino unitario e quindi sostanzialmente accendendo uno switch della corrente continua della scusate tensione una batteria sostanzialmente abbiamo acceso una batteria abbiamo fatto passare da 0 a un certo valore di solito 1 1 volt per dirne per dire l'entrata del sistema abbiamo visto l'uscita abbiamo fatto la convoluzione di questa uscita matematicamente con la delta di dirac e magicamente abbiamo ottenuto la opportuna hdt e da adesso in poi sappiamo che il nostro sistema ha questa hdt insomma io penso che questo sia abbastanza chiaro ci sono rimasto sopra un po' di tempo perché è diciamo centrale un argomento veramente centrale nella teoria dei segnali però voi sarete sicuramente rispetto a questo poi è un argomento che è di importanza centrale ma poi rimane per noi che stiamo facendo un corso di misura per l'automazione rimane l'infarinatura teorica iniziale del corso quindi non sottovalutatelo se poi tra poco non ne parleremo più però sappiate che questo è veramente un argomento centrale diciamo della teoria dei segnali di come vengono trattati i segnali adesso come tutte le cose facendo un esempio capiamo tutti un po' meglio quello che stiamo dicendo facciamo conto di avere un quadrupolo un filtro semplicissimo un filtro primo ordine un RC quindi abbiamo un RC prendiamo l'uscita su uno dei due non ci interessa adesso prendiamola su C e modellizziamo questo filtro come appunto questo quadrupolo in cui abbiamo un ingresso ci applichiamo all'ingresso del nostro quadrupolo una certa X di T in entrata ovviamente un potenziale che varia nel tempo un certo X di T e in uscita attacchiamo l'usciloscopio e vediamo esce un certo Y di T neanche ci interessa più di tanto adesso che forma hanno X e Y di T se sono sinusoidali se sono rettangolari non ci interessa più di tanto e scriviamo l'equazione che lega l'entrata con l'uscita la sappiamo scrivere stavolta perché conosciamo l'interno del sistema sostanzialmente questo è l'esercizio adesso cioè nella pratica o dobbiamo proprio noi creare il sistema al fine di avere una certa uscita oppure ci danno una scatola chiusa una scatola nera noi misuriamo l'entrata e uscita ma non sappiamo che dentro c'è un RC per esempio in questo caso qui stiamo facendo l'esempio facile facile per capire quello che abbiamo appena detto quindi sappiamo che c'è un R e un C e allora scriviamo l'equazione che lega X con Y un'equazione analitica derivante dalla fisica dalla conoscenza fisica del comportamento di questi oggetti e scriviamo che X di T che è la caduta fra questi due poli positivo e negativo scritti così per convenzione la caduta di questi poli è semplicemente la caduta che si ha su R più la caduta che si ha su C la caduta che si ha su R che è un componente ohmmico è semplicemente R per I R per la corrente che scorrerà dentro il resistore e la caduta ai capi di C è la nostra uscita lo vedete facilmente perché il disegno parla da solo quindi scriviamo che X di T è uguale a R per I di T più Y di T ma chi è Y di T noi ce lo ricordiamo sappiamo che la corrente che scorrerà attraverso il condensatore è data proprio dalla C dalla capacità per la derivata rispetto al tempo del potenziale quindi I di T sarà uguale a C per D in DT di Y di T di modo che diciamo l'equazione che avevamo visto prima cioè X di T uguale a R per I di T più Y di T diventa X di T ovviamente sostituiamo la corrente dato che è un'unica maglia la corrente è sempre la stessa sostituiamo alla corrente quello che è cioè è nient'altro che R per C per D in DT di Y di T più Y di T questa è un'equazione se volete differenziale del primo ordine coefficienti costanti una equazione che sappiamo tutti avere una soluzione l'abbiamo vista nel corso se volete andare a riguardare per chi ha seguito nel corso di misure elettriche ed elettroniche abbiamo visto questa forma la soluzione di questa equazione differenziale c'è una costante che moltiplica 1 meno e alla meno T su Tau dove Tau era il tempo caratteristico del filtro che era R per C a noi adesso non ci interessa facciamo conto che questo coefficiente di proporzione d'assi a 1 e andiamo a vedere questa risposta in funzione del fatto che noi abbiamo mandato un gradino all'ingresso proprio per trovare la famosa H di T mandiamo un gradino all'ingresso quindi la soluzione sarà si fatta la risposta se volete indiciale sarà Y di K di T 1 la forma funzionale resta ovviamente 1 meno E alla meno T su Tau su R per C ovviamente qui non si scrive Tau R C uguale Tau per non far confusione col parametro della convoluzione sappiate sono due cose diverse ovviamente purtroppo storicamente tutte le varie convenzioni poi si accavallano però lasciamolo così E alla meno T su R C per il gradino unitario U di T quindi questa è l'uscita di quel filtro se applichiamo il gradino unitario e quindi abbiamo detto che per trovare quello che ci interessa a noi cioè per trovare la risposta al gradino unitario basta fare la derivata della risposta indiciale facciamone la derivata la derivata di questa cosa qui e ovviamente E alla X rimane E alla X ma c'è la derivata interna per X punto e quindi c'è un meno di questo T che va a fare col meno che già è presente fa più e poi scarica giù un 1 fratto R C perché la derivata interna fa meno 1 su R C ovviamente col meno fa più quindi la derivata rispetto al tempo della risposta indiciale in questo nostro caso fa 1 fratto R C per E alla meno T su R C per U per il gradino unitario questa qui vedete la funzione H di T cioè sarebbe la risposta del nostro sistema R C all'impulso di Dirac che noi non possiamo produrre ma l'abbiamo trovato semplicemente facendo la derivata semplicissima della risposta indiciale del sistema e quindi da adesso in poi sappiamo se abbiamo un simpatico filtro R C sappiamo farne la convoluzione con altre funzioni mandando per esempio un rettangolo mandando un dente di sega mandando una funzione triangolare basta moltiplicarla per questa H di T farne l'integrale del meno infinito e questa è la risposta di questo sistema a ogni tipo di segnale quindi diciamo è veramente facile questo concetto mi raccomando rileggetelo fate adesso io produrrò degli opportuni esercizi dove voi troverete le H di T facendo le derivate di queste risposte indiciali se avete problemi come sempre vi esorto a scrivere le mail sul portale o a usare a utilizzare il forum o a sfruttare ripeto ricordate lo sfruttate le ore di ricevimento di cui presto avremo il calendario nuovo e poi da questo seconda parte dell'anno a fine siamo in gennaio quindi in febbraio dovrebbe essere attivo il nostro laboratorio quindi vi saranno le lezioni in presenza dove io eseguirò degli esperimenti mi raccomando cercate di eseguire questi esperimenti perché ovviamente sono parte integrante del corso adesso io vi saluto vi auguro di nuovo buon anno perché ripeto siamo ormai al 7 gennaio come vedete dal mio head qui dalla barra delle applicazioni e vi rimando alla terza lezione un abbraccio a tutti di nuovo estendete gli auguri alle vostre famiglie e ci vediamo nella terza arrivederci a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti